No, no, mamma mia, guardalo, guardalo, lo uccidiamo, sì, avete visto, stavo ballando, sì, fatto esplodere, mi ha visto, mamma mia, mi ha visto, sì, perfetto, li abbiamo sparato, li abbiamo sparato tantissimo, ok, ok, mamma mia, è forte, è forte, è forte, sì, che sta facendo, non ho capito, perfetto, peccato, fantastico, facciamo una trappola, qui c'è un bellissimo tesoro, venite, venite, Prendete il tesoro bellissimo, qua c'è un tesoro, oh, oh, guardalo, è fantastico, ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Fortnite, ci troviamo in questo nuovo fantastico video perché il precedente video vi è piaciuto veramente tantissimo, oggi cerchiamo di vincere una nuova partita, se vorreste vedere altri video di Fortnite raggiungiamo i 3000 mi piace, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti E ora condetevi questo fantastico video, stiamo atterrando qui in questa nuova fantastica partita, siamo qua vicino al laboratorio, perfetto, c'è della gente qua con me, potrebbe essersi della gente, infatti avevo visto qualcuno ma non l'ho perso di vista Quindi non so più dove è atterrato, perfetto, prendiamo subito qua questo bel pompa e teniamo gli occhi aperti, sta atterrando qualcuno, è atterrato qualcuno, non è atterrato nessuno, non riesco a vedere nessuno, niente, peccato Continuiamo qua a lutare e cerchiamo subito, oh, e cerchiamo qua subito di andare ad ammazzare qualche persona, guardate qua, abbiamo trovato tantissime cose interessanti, però guardate qui Abbiamo trovato un vendor leggendario, wow, guarda qui, allora un cecchino lento, c'è un cecchino veloce scusate, ok un cecchino veloce per 500 di metallo, potrei anche farlo sapete Sì, è probabile che prenderò quel cecchino leggendario perché un cecchino lo vorrei avere, visto che modestamente sono bravino con il cecchino e riesco a giocare veramente tanto tanto bene Cerchiamo di entrare in questa casa, prendiamo un po' di metallo perché ci servirà tanto 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 metallo, vediamo un po' dov'è il tesoro, il tesoro dove si trova? Eh, il tesoro è sempre qui sopra, infatti cerchiamo di prenderlo subito, infatti qua avete visto che non è atterrato proprio nessuno, io avrei tipo una quest da fare nel laboratorio Tipo devo aprire 7 forzieri se non mi ricordo male, o forse devo fare 3 uccisioni, cosa impossibile perché nessuno va in quel posto nascosto, nessuno ci va nella costa E quindi è veramente difficile quella quest, ok tesoro qua, perfetto, non abbiamo trovato niente di interessante, dobbiamo semplicemente adesso raccogliere 500 di metallo, cosa? Ma c'è un altro tesoro qui sopra, fantastico, avete visto comunque la skin di Omega quant'è bella? E sta diventando sempre più bella perché ogni volta che raggiungo un tot di livelli ovviamente si potenzia e sta pian piano diventando come quella di Iron Man, che figata Oh no, muoviamoci il bordo, sta arrivando, aiuto, ma che cosa riusciamo a fare in questa partita? Mamma mia non ho fatto manco un'uccisione, non ci posso credere, perché quando registro mi capitano queste partite? Oh cacchio, prendiamo il cecchino e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, dai, mamma mia abbiamo tipo almeno full vita e full armatura, almeno questo ce l'abbiamo Preso, finalmente abbiamo preso il cecchino, oh che bello, ora abbiamo un bel fantastico cecchino, abbiamo tipo 28 proiettili, non abbiamo neanche così tanti, quindi non possiamo manco spammare O becchiamo le persone che stanno ferme o tipo è la nostra fine, ok, eravamo vicini al ponte comunque, nessuno è arrivato, pazzesco, siamo tipo da soli Ok, siamo qui vicini al bordo, dai, qualcuno adesso dovremmo riuscire a vederlo, siamo rimasti tipo in 14, non ci credo, che facciamo? La challenge del vincere senza fare un'uccisione, beh io vorrei farmi un'uccisione, quindi dai cerchiamo di beccare qualcuno se ce la facciamo Oh, l'abbiamo visto, l'abbiamo fatto arrabbiare, l'abbiamo fatto arrabbiare, sì, beccato, l'abbiamo svegliato, avete visto? L'abbiamo svegliato bene, ok, si sta prendendo gioco di me Abbiamo tolto tutta la vita e tutta l'armatura, ne sono sicuro, infatti avevo visto anche il nombrino giallo, perfetto, saliamo, saliamo, no, no, no Ok, che cosa vuole fare? Vuole fare qualcosa, è sceso, è sceso, oh Ok, eccolo qui, eccolo, perfetto, si è curato, ok, mamma mia, becchiamolo, becchiamolo, dai, gli abbiamo fatto un mucchio di headshot, pazzesco È ancora vivo questo, ok, saliamo, saliamo, dov'è? È caduto giù, non ci credo, ecco perché era caduto giù, perché l'abbiamo ferito, guardate che cecchino che aveva, aveva il mio stesso cecchino leggendario Non ci credo, perfetto, ok, perfetto, siamo andati bene, siamo andati benino, dai, questo qua non capisco che cosa stava facendo, io credevo che fosse uno tipo forte, invece no, non ci credo Jarvis, dimmi se c'è qualcuno intorno a noi, ok, Jarvis non mi sta dicendo niente, perché ho detto Jarvis, perché questa qua è la tuta di Iron Man e ovviamente c'è anche Jarvis con noi Ha ha, fantastico, perfetto, non vedo nessuno, sapete che faccio? Mi piaccio, nella sua stessa torre che ha costruito, bella, bella, grazie per avermi costruito la torre, capito? Oh, no, lo sapevo, lo sapevo che c'era qualcuno, ok, fantastico, c'è qualcuno, facciamo una specie di appartamento, sì, venite dall'appartamento di Armageddon, fantastico Ok, che bello, vedete, visto, abbiamo costruito un appartamento fantastico, sapevo che c'era qualcuno, infatti volevo costruire subito qualcosa per cecchinare quello che mi stava sparando Deve essere tipo in quella casa là in fondo, ricarichiamo tutte le nostre armi perché tipo siamo rimasti in sette, siamo rimasti in sette? Cosa? In sette siamo rimasti? Pazzesco! Eccolo, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, guardalo, che sta facendo? Peccato! 172 metri! Ah, stava controllando l'altro che era lì, che è quello lì che mi ha sparato secondo me Fantastico, va bene, va bene, va bene, va bene, guardiamo da questa parte se c'è qualcun altro che possiamo cecchinare Oh mio Dio, quella torre non c'era, quella torre prima non c'era, secondo me quella torre non ci stava prima E adesso che cosa fa lì quella torre? Cosa vuoi fare? Ok, c'è qualcuno, la sta costruendo Dai, fai spugare la testa prima che si stringa il bordo Se si stringe il bordo non c'ho tempo di spararli a questo Vorrei spararli prima che si stringa il bordo Dai, non fa uscire la testolina, avete visto? Fai uscire la testolina, oh che bello, possiamo vedere da queste belle fissure, avete visto? Che figata C'è qualcuno, ok, c'è, 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 dai vai, ok Fai uscire la testa, fai uscire la testa Ok Ok, mamma mia, è bravo, è bravo questo È bravo, è bravo, via, 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 via Andiamo via perché sapete, il bordo si sta stringendo, perfetto Andiamo dentro al bordo e poi vediamo che cosa riusciamo a fare Ok, oh guardalo, guardalo, guardalo No, fai uscire la testa Fai uscire la testa, mamma mia Non l'ha fatta uscire, peccato, peccato Volevo tanto che la facessi uscire la testolina, peccato Ok, siamo al dead match, siamo al dead match, ok Va bene, va bene, va bene Facciamo tipo qua una bella torre Ok, facciamo così, facciamo così Facciamo così, siamo proprio nel bordo Pazzesco Ok, siamo rimasti in cinque Uno è qua a sinistra, l'altro deve essere tipo a destra Solo che non lo vedo più Oh, guardate là, guardate là chi c'è C'è qualcuno Sta costruendo una mega torre Però non posso alzarmi perché a sinistra c'è un altro Che cosa potremmo mai fare È la fine Oh, c'è anche lui in cecchino Ma c'hanno tutti in cecchino oggi Che cos'è la giornata del cecchino È la giornata del cecchino No Hashtag giornata del cecchino Non lo sapevo io È festa, allora non bisogna lavorare Oh, che cosa? Ma quello non c'era prima Ho sbaglio Quel cosa non c'era prima Oh, è la presa in giro Oh, guarda, guarda Che sta facendo? Ha le ali questo Oh, vuole mettere un launchpad Forse vuole mettere un launchpad Sembra essere veramente bravo quello Abbiamo due uccisioni Quello è nascosto Oh, l'ha usato Ha usato lui il launchpad invece Ok, ok, ok Oh, fantastico L'abbiamo distrutto Dov'è? 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 È qui sotto È qui sotto È qui sotto È qui sotto È quello di sopra Andiamo, andiamo, andiamo 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 È qui, qui Eccolo Eccolo Sì Fantastico Mi ha spaventato Ok Perfetto Ho preso tutto Ok Vediamo di ciocchinare quello Dov'è? Dov'è? Dove sta sparando? Dove sta sparando quello? Non ho capito Ok Oh, guarda là C'è un altro Ah, peccato Quello non riesco a vederlo Oh Li stanno sparando Chi è che li sta sparando? Se vedo che li sta sparando Potrei tipo one-shotarlo Eh, shotarlo Eh, sette secondi Andiamo, andiamo via Andiamo via Stringiamo, stringiamo Il bordo si sta stringendo Uno è lì Le altre due persone non so dove stanno Mamma mia È una zona pericolosa questa Oh È sceso dalla montagna quello Solo che adesso non lo vedo più Mamma mia Non lo vedo più Eh, questo sta in una torre Cacchio Guardalo Sta in quella torre bellissima Eh, non so che cosa fare Facciamo una cosa Andiamo da qua dietro E non facciamo casino Perché se ci sente questo È il casino È la fine se ci sente Oh Ma cos'è? Eccolo Peccato 232 metri Li aveva sparato questo Oh Guarda, guarda C'è uno qui È lì davanti È l'altro nella torre Aspettiamo, aspettiamo Aspettiamo di cleanappare Dobbiamo cleanappare Mamma mia Che bello shot che abbiamo fatto Epico Questo vale lo shot Avete visto? Scrivete che bello shot Se avete visto lo shot Perché devo sapere se l'avete visto Eccolo, eccolo Si sta muovendo Eh, eccolo Oh no Eccolo, mi ha visto Mi ha visto Mamma mia Mi ha visto Mamma mia Stiamo attenti No Mi ha shot Mi ha shot Mi ha fatto Non capivo Da dove Dove mi stava sparando Mamma mia Posizione finale Terzo Stava andando Così bene Questa partita Che gran peccato Questo era veramente Troppo, troppo bravo Infatti non capivo Se mi aveva visto No, infatti Mi aveva visto Avevo sbagliato a fare quella cosa Spero che questo video Qui su Fortnite Vi sia piaciuto Scrivete GG Se vi è piaciuta Questa fantastica partita Raggiungiamo i 3000 Mi piace per un prossimo video Iscrivetevi al canale Premendo il tasto Rossa Iscriviti E niente Ci vediamo A un prossimo video Ciao, ciao